Accordo fatto sul protocollo sicurezza delle scuole in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, ma con uno strappo clamoroso i presidi non ci stanno. L'obbligo del Green Pass è illegittimo e discriminatorio nella misura in cui va contro il regolamento 953 del 2021 e ai sensi del quale è stato adottato per gli spostamenti per l'estero, a dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale UDIR. Per questo il sindacato dei presidi annuncia che sarà richiesto un provvedimento urgente al giudice amministrativo a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico e accademico e al giudice ordinario un'ordinanza contro l'azione discriminatoria e per i relativi risarcimento patiti. Tutto questo a distanza di poche ore dal nuovo decreto legge che introduce dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 l'obbligo di Green Pass per il personale scolastico che, secondo il ministro Patrizio Bianchi, costituisce una ulteriore misura di sicurezza. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute, questo a tutela dei lavoratori fragili. Il Green Pass non è previsto per studenti e studentesse. Ma chi dovrebbe controllare il certificato verde alla ripresa delle attività scolastiche? Il decreto prevede che siano i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, nonché delle scuole paritarie, a verificare il possesso della certificazione. La verifica può essere delegata formalmente dal preside ad una persona della scuola. Tutto ciò prosegue il sindacato. Oltre a mettere i dirigenti scolastici nella posizione di dover sanzionare chi del proprio personale ne è sprovvisto, aumenta notevolmente il carico di lavoro e soprattutto le responsabilità. Sicuramente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è la decisione della sospensione dello stipendio, ma anche le multe da 400 a 1000 euro. Per questo è stato annunciato un ricorso al TAR del Lazio, con adesioni entro il 23 agosto 2021. Anche la giovane associazione europea Radamante si schiera contro il Green Pass obbligatorio, specie per gli studenti universitari. L'azione, dicono dall'associazione, vuole annullare l'articolo 1,6 del Decreto Legge numero 111 del 2021 e le disposizioni applicative che causano l'interruzione del diritto allo studio come esami, lezioni e lauree. Nel frattempo l'associazione metterà a disposizione un modello di domanda di tampone rapido e gratuito da eventuale richiedere ai rettori, nonché di attivazione della didattica a distanza.